La Befana più attesa dalla città è arrivata scortata dalle principesse Disney con un sacco pieno di caramelle per tutti i bambini presenti. Come ogni anno si è infatti rinnovato l'appuntamento con una Befana per la città, organizzato come sempre dal quartiere di Porta del Foro all'interno del palazzetto Mario d'Agata. La vecchietta, chiamata dai bimbi, è stata infatti la protagonista della 36esima edizione dell'evento. Una manifestazione che ormai appartiene al quartiere, l'hanno organizzata i nostri nonni, i nostri babbi e adesso siamo noi che portiamo avanti questa festa per la città. La giornata nel rispetto della tradizione della Befana, cioè dedicata ai bambini, agli spettacoli dei bambini e così diventa una festa per tutte le famiglie che si ritrovano all'interno del palazzetto. Sul parquet del palazzetto nel giorno dell'Epifania si sono esibite anche le scuole di danza e ginnastica del territorio, ma non solo, spazio anche a basket, arti marziali ed infine kickboxing.